La Ciconfraternita del Santuario e l'amministrazione comunale di Pagani insieme per illustrare programma ed obiettivi delle prossime festività in onore della Madonna delle Galline. Dal 5 al 9 aprile la città sarà invasa da visitatori interessati al doppio carattere delle celebrazioni, che alternano la sacralità religiosa all'identità storica di un popolo. Dalla cerimonia di apertura del Santuario e Canto del Magnificat fino alla processione domenicale, passando per l'istituzione dei 31 Toselli e il programma civile che culminerà nell'esibizione di Enzo Avitabile, il calendario di eventi è ricco con l'obiettivo di trasportare a cittadinanza e ospiti l'infinito valore religioso e storico della Madonna. I festeggiamenti iniziano il venerdì 5 aprile con l'apertura del Santuario alle ore 18 e poi alle ore 22 abbiamo questa rassegna musicale mistica di Vincenzo Romano e poi il sabato è un periodo di attesa, un giorno di attesa e la domenica con la messa delle 8 del Vesco con i parroci della Friore di Pagani alle 9 poi esce la processione, la statua per le strade della città e si ritira poi alla cala dell'ora dopo lo scambio dei Doni a San D'Alfonso e quindi quel giorno qui è un giorno molto importante sia per l'Arcivo Fraternita ma sia anche per il popolo paganese perché vedrà la statua della Madonna delle Galline percorrere le principali strade della città. In effetti è una delle feste più importanti della provincia di Salerno, la festa della Madonna delle Galline che di conseguenza comporta un piano di emergenza meticoloso anche perché data anche l'affluenza si eleva sempre di più il rischio per cui bisogna essere accorti, precisi, preparati e soprattutto in sintonia con Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine. Ci faremo certamente trovare pronti anche quest'anno, saranno dal 5 al 9 di aprile giorni importanti per la città di Pagani che dovrà dare il massimo di se stessa come senso di sacralità innanzitutto ma come senso di appartenenza, di accoglienza per i tanti ospiti che avremo sul nostro territorio. Proprio perché saranno tanti gli ospiti abbiamo suddiviso un piano parcheggi per quelli che vengono da fuori Pagani, quindi parcheggi individuati nella periferia tra virgolette del centro urbano, non mi stanco di ripeterli, quindi Consorzio Mercato Ortofrutticolo, Consorzio di Bonifica, Arena Pignatario, Curva Ospiti via Via Dipaldi e via Caduti di Superga. Mentre per i residenti che dovranno fare almeno nelle ore più importanti di prendere l'auto ci sono il parcheggio di via Pittoni, il parcheggio di via Garibaldi e poi ovviamente il parcheggio dello stadio comunale non essendoci la partita casalinga della Paganese e poi ci sono i parcheggi ovviamente che ho requisito attraverso ordinanza quindi all'interno delle scuole, in maniera particolare della Rodari, del liceo scientifico e della della Santo Alfonso su via Trento. Sono cose importanti che vanno comunicate perché per un piano di sicurezza la comunicazione è importante ma quello che fa il successo di questa festa è la collaborazione di tutti. Clima di festa che deve essere però vissuta anche nell'animo delle celebrazioni, come sottolineato dal priore dell'arciconfraternita Giuseppe Tortora che rilancia la campagna di raccolta fondi verso il restauro della facciata del santuario della Madonna delle Galline. Noi invitiamo qui un po' tutti i paganesi, chi viene, i tosellanti, sono 31 tosellanti a contribuire insieme all'arciconfraternita questo restauro della facciata del santuario. Durante quest'anno sono state fatte una nuova statuetta della Madonna, sono stati fatti dei lumini con l'immagine della Madonna e appunto questo proprio per contribuire al restauro della facciata.